Ultime ore per definire le liste dei candidati alle regionali e alle comunali. Ore convulse fino a mezzogiorno di domani sono da mettere in conto trattative e clamorose sorprese. Il Partito Democratico ha scelto, lacerato da guerre intestine, dopo aver coinvolto i vari zingaretti Orlando Franceschini, Blinda, Conaria Dem, Le Caselle. Il presidente dell'Alto Calore Michelangelo Ciarcia e la presidente del Consiglio Comunale di Grotta Minar d'Antonella Meninno completano la rosa dei candidati che affiancheranno D'Amelio e Petracca. Nello scontro il grande escluso è stato Livio Petitto che nonostante le rassicurazioni ricevute è stato di fatto messo alla porta dal partito all'ultimo istante. Il governatore De Luca, attraverso il segretario regionale annunziato e il commissario Cennamo, hanno stretto il cerchio lasciando fuori l'ex presidente del Consiglio Comunale di Avellino, ritenuto meno fedelissimo e per questo scomodo tra i fedelissimi del governatore. Cosa farà ora Petitto? Le risposte a questa domanda consentiranno con effetto domino di chiudere anche le altre liste del centro-sinistra al momento congelate. Se e dove Petitto correrà per Palazzo Santa Lucia è un tema che potrebbe richiedere fino all'ultimo minuto utile di riflessione. A questo punto se Giannace può dirsi certo di correre in De Luca presidente, al suo fianco potrebbe ritrovarsi l'ex presidente di Confindustria Basso. In Campania, Libera declina Cerrato e confluisce d'Avanzo di Avella. Il patto fare democratico popolare si conferma, oltre a Rosato e Nazaro, vice sindaca di Atripalda, in campo potrebbe esserci il sindaco di Flumeri Lanza. Nel centro-destra liste sostanzialmente chiuse, resta però il braccio di ferro Gargani Caldoro sulla lista del presidente. In giornata depositeranno Fratelli d'Italia e Lega, lo ha già fatto il Movimento 5 Stelle.